Bentornati sulla carriera giocatore con il nostro Tiagi, siamo qui alla Lazio purtroppo dal primo posto in cui eravamo c'è stato un piccolo crollo perché ora siamo sesti in classifica e non è affatto buono e oggi per primo incontro, come primo incontro andiamo a affrontare l'Udinese che tra l'altro sta diciottesima in classifica quindi dovrebbe essere agevole quantomeno sulla carta perché sappiamo che non sempre è così, anzi a volte è l'incontrario ma dettagli, ragazzi dobbiamo tornare a brillare perché ultimamente stiamo facendo una fatica incredibile Lazio in solitaria ma perché tiagi così e così vai cancellieri vai è lento come quanto cavolo è lento cancellieri ragazzi ma è veramente lento, lento sfatto vabbè tiagi, caro amico ti scrivo vai cancellieri vai no, 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 no cosa ha preso cross lungo è proprio quello che piace a me il cross buggato però è un po' troppo vai cancellieri mamma mia cancellieri diciamo che è leggermente rivedibile non capisco perché onestamente tiagi sia così indietro ogni volta non va bene questa cosa, bravo Ato contropiedissimo, mi piace ma infatti vedete bravissimo ma porca miseria, porca non riesco a fare nulla non riesco veramente a far nulla calcio di punizione per l'udinese e potrebbe essere non tanto bello purtroppo non è tanto bello bravo Aito no ma come ma ragazzi ma ma porca miseria eravamo al sessantesimo non puoi già arrivare al novantesimo così senza manco senza manco proferire parola non è normale su comunque Lazio veramente in crisi riuscirà a tiagi a giocare da competizione europea nella sua vita? non lo so non lo so scarsi risultati per l'allenatore stai col mister anche perché anche perché sappiamo che a Lazio se cambia mister non sempre è positivo a parte stavolta con Tudor che ancora non si sa se può supportare cose interessanti al momento una vittoria una sconfitta per Tudor però di solito a Lazio non è che ha questi grandi nomi per la panchina e Sarri è un allenatore secondo me molto bravo simula tutto arriviamo a 78 incredibile colpo di scena tiagi è arrivato a 78 è incredibile è veramente incredibile sono contentissimo ma ora testa al Venezia fuori casa Venezia che pure quella sta diciottesima che ha preso il posto dell'Udinese non dico niente perché perché ragazzi mi porto una sfia colossale meglio che sto zitto meglio meglio mi conviene su mi conviene ha senso veramente star lì ad arfiato la bocca occasione di cross ecco la formazione titolare con cui partono i padroni di casa beh dai siamo molto offensivi in questa occasione qui questi sono i titolari della formazione ospedale qualcuno che si faccia vedere o comunque in attacco siamo veramente scandalosi bravo Marco Santonio non fischi il fallo ma c'è il vantaggio ma se gli da passi amico mio però ho messo filtrante ok ma non era un filtrante quello era sul giocatore avversario Marco Santonio la passa dietro per il compagno Piaggi e vamos Lazio in vantaggio con Piaggi che sblocca la partita un tiro molto forte molto potente e finalmente la Lazio dà segni di risveglio ecco cos'è che stavo dicendo me l'ha sottirata me l'ha sottirata me l'ha sottirata non me l'ha sottirata qua di brutto ma che tra l'altro scusate ma lì lì cosa potevo fare io cioè era un'occasione veramente troppo semplice per gli avversari io non potevo far nulla mamma mia Lingra Tiagi bravissimo Tiagi cancellieri niente mamma mia cancellieri era un passaggio fenomenale di del nostro Tiagi il cancellieri la butta in vacca con un tiro veramente definì vergognoso e fargli un complimento mamma mia mamma mia cancellieri ma uno più forte lì non posso averlo io no perché è un compagno così ma rega però di testa non ci siamo cross lungo 58esimo siamo un po' lì stiamo rischiando pur di pareggiare questa bravo Tiagi ottimo il passaggio Lingra Tiagi mamma mia che giocatore sontuoso che giocatore sontuoso che giocatore sontuoso Tiagi se non ci fosse lui ma se non ci fosse lui sul serio e no il crossbuggato ora no eh raga io io vi disconosco ma porca bravo Aito Aito come ti chiami l'importante che la blocchi 76esimo ma fischia ma fischia su non è un problema cosa ma che non glielo ho fatto io il passaggio rega non glielo ho fatto io il passaggio ha fatto tutto da solo ma io non ci credo ha fatto tutto da solo ha fatto io non ho fatto niente l'occasione è cancellieri fai una cosa buona mamma mia cancellieri sei lento ma sei lento mamma mia comunque cancellieri ragazzi sì talento tutto quello che volete ma è di una lentezza colossale veramente ma di una lentezza veramente colossale con tutto il bene per cancellieri però su questo gioco è veramente lento poi non mi ricordo nella realtà quanto sia veloce però gol partita eh condividi i meriti perché comunque me l'hanno passata non è che ho fatto tutto da solo per carità quindi condividiamo questi meriti su condividiamoli contro la fiorentina la prossima eh eh la fiorentina è una bella squadra sta sta ottava dietro di noi però non di tanto tre punti tre punti appunto quindi basterebbe perdere che già ce li potremo trovare eh ehm attaccati e non è una bella cosa oh c'è il natale cosa facciamo facciamo beneficenza un po' di beneficenza che non fa mai male a nessuno investimenti oh abbiamo guadagnato qualche soldino eh il buon tiaggio ormai sta diventare ricchissimo veramente ricchissimo un campione anche di finanza oltre che sul campo allora contro la fiorentina eh dovremmo sudarcela siamo in casa però sappiamo che non vuol dire nulla non vuol dire nulla oddio quando gli pare vuol dire quando il gioco gli pare comunque dai 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 dobbiamo confermarci dobbiamo confermarci calcio di posizione per noi solo a chi non so batterli e questo potrebbe essere un problema quindi chiamiamo il secondo il terzo tiratore usa il secondo bravissimi si però si il di là mamma mia ma comunque ho notato solo io siamo veramente lenti come squadra io volevo mettere in profondità questo qui non è più scattato ha fatto finta occhio alle sovrapposizioni lingre bella lingre no ma non è possibile ma dai ma non è veramente possibile siamo già al secondo tempo manco il tempo di respirare e siamo già al secondo tempo ammazza c'hanno fretta di finire questa partita c'hanno proprio fretta no ma io dico gioco simpaticissimo perché mi dai il giocatore che non può arrivarci quando io volevo un altro giocatore ma cos'è bastava passare dritta per dritta dritta per dritta ed era gol ed era 99% gol io non so più cosa dire io sono veramente distrutto dentro l'anima oh l'avrei toccata l'avrei toccata guarda 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 ancora sti calci di posizioni non so batterli il gioco lo sa allora mi dà solo quelli loro lo sanno infatti dicono ah li diamo solo quelli così si arrangia non vincerà mai ti agi fatti vedere mamma mia ti agi però anche tu vai vai ma porca ma ti agi ma ma cos'hai oggi ma cos'hai aia aia queste queste cose sono brutte oh contropiedissimo ma qui ci stava il contropiede qui ci stava sconfitta eh lo sapevo che andava a finire così eh io lo sapevo già ecco il problema che già lo sapevo la Lazio è una squadra che fa fatica fa veramente tanta fatica ragazzi onestamente stiamo facendo veramente tanta fatica io penso che l'Europa sia un discorso complesso moce l'Inter che è sesta non chiedetemi come il perché perché manco lo so io onestamente come fa l'Inter a essere sesta in classifica ha soli due punti da noi e vabbè comunque andiamo ad affrontare l'Inter sperando in un miracolo sportivo ascolto la partita di oggi perché ci vorrebbe un miracolo sportivo ci vorrebbe ci vorrebbe eh ragazzi è una squadra un po' come una realtà ehm a sprazzi buona a sprazzi terribile dipende da quanto dalle partite che affronta da Piero Cipardo ma momenti non si sa non si sa vabbè comunque comunque Perrone il buon Perrone Tiagi mamma o anche tu non ti ci mette eh già c'ho già c'ho cancellieri se ci si mette pure Perrone a far schifo vabbè ma il mio difensore che manco interviene passa di fianco come se niente fosse io spingo cerchio 34 volte ma non funziona non vogliamo parlare Linger Piagi mamma mia l'Inter fa la buona diversità fatti vedere fatti vedere mamma mia cancellieri ma porca chi t'ha comprato veramente oh c'è il tiro sì non ci credo un gollonzo un gollonzo era quello che ci serviva che culo che culo qua possiamo dire che è effettivamente tutto lato B questo è tutto lato B non c'è niente di bravura ma a noi va bene lo stesso mazza che fortuna no 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 perché nessuno ci va nessuno risponde ai miei comandi si di là bravissimo cosa potrebbe essere il go del pareggio ma comunque quando mi dicono contropiede i comandi non rispondono è una roba agghiacciante ogni volta si rischia sempre di perdere il possesso palla perché va in ritardo di 50 minuti infatti avete visto prima cos'è successo imbarazzante oh questo è un contropiede sensato vai Lingre cancellieri cancellieri cioè cancellieri io veramente non ti posso vedere quando è che ti vendono quando è che ti danno via spero presto spero presto sì però nessuno qua mamma mia che culo che culo mamma mia che si è mangiato Joao Felix all'Inter e sono sesto in classifica ma che ca ti agi no no aveva fatto tutto bene aveva fatto un'opera d'arte un'opera d'arte stiamo vincendo miracolosamente no 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 era quasi passata era quasi passata calcio d'angolo vabbè dovremmo avere il risultato in tasca 89 89 89 oh bella vittoria questa sì questa è una gran bella vittoria ti agi ultimamente sta facendo fatica in serie A bisogna ammetterlo però intanto Lazio vince contro l'Inter io sono contentissimo bene ci siamo ripresi in teoria il sesto posto o il settimo adesso non lo so siamo sesti siamo sesti va benissimo va benissimo disponibile ok 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 e no ho sbagliato dovevo andare avanti la prossima col Verona in casa e il Verona che è dodicesimo in classifica simuliamo allenamento ormai arriviamo a 79 di sto passo oh dribbling controllo palla 89 potenza tiro 89 sta a diventare su da carta un giocatore incredibile su da carta oh arrivano dei soldini pochi ma buoni microfinanza team esports diciamo un'accademia sportiva comunque sono sempre le solite cose tende un po' ad annoiare questa cosa onestamente un pochettino annoia però 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 ma dirigenza quando è che vendiamo cancellieri che veramente mi è un po' così mi è un po' io non riesco a giocarci con cancellieri non riesco a giocarci faccio una fatica colossale veramente colossale è lento non riesco a schillare non mi piace non mi piace ellas in contropiede si è messi un pochino male onestamente se posso dirla tutta si è messi molto male l'ellas è lento grazie ellas voi si che siete dei veri amici ti agi l'hai visto oh cancellieri no no non te posso più veder non te posso più veder tipo giulio baptista uguale identico non te voglio più veder no non è possibile non è possibile non è possibile ma quanto è scarso oh raga però svegliamoci ma quanto è scarso porcaccia miseria quanto è scarso ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia in un oh almeno un coppo di testa l'hai fatto bravo cancellieri e dammi i contropiede su l'ho chiamato l'ho chiamato vai vai no non così no ma cos'è mamma mia mi è da piangere aiuto dove son finito dove son finito calcio d'angolo va direttamente in area mamma mia spazzano senza problemi stai facendo lazi in contropiede oh ti age tua ti prego fai un cross fatto bene ti prego fai un lancio fatto ma cosa mi ha interrotto il passaggio raga mi ha interrotto il passaggio io non so cosa dire e dammi l'altro giocatore l'immortacci tua è lentissimo sto gioco a volte non riesci io ho spinto 70 volte il passaggio alto filtrante non me l'ha fatto non sei dignato di farmi sto passaggio mamma mia mamma mia che brutto pareggio col Verona che brutto pareggio ragazzi ringraziamo cancellieri ringraziamo che si è mangiato un gol alla porta praticamente sguarnita perché lì era veramente semplice buttarla dentro invece no invece no noi siamo umili vogliamo far far punti anche agli altri giustamente l'umiltà prima di tutto bello questo questo replay con lo schermo nero mi piace tanto proprio fatto bene siamo settimi ora ragazzi siamo settimi passaggio conto siamo migliorati anche nel passaggio lungo tanto non ci serve quando dobbiamo farlo non va comunque un nuovo giocatore Zalensky perché Zalensky ma non era nella nella Roma Zalensky mi hanno preso Zalensky vabbè io sono contento al posto di cancellieri mi hanno ascoltato mi hanno ascoltato sarebbe clamoroso sarebbe clamoroso se mi avessero ascoltato per una cavolo di volta vi prego fa che giochi cancellieri con a posto di fa che giochi Zalensky no non c'è Zalensky aiuto basta cancellieri basta tra l'altro mi sa che Zalensky fa il terzino l'esterno sinistra quindi figuriamoci no Zalensky che quello fa già non mi ricordo terzino però vabbè mettilo al posto di cancellieri lo stesso su non è un problema non è un problema basta che me lo cavi da lì sono a posto metterci anche Bernardesky che va bene lo stesso cosa mi tocca dire ragazzi mamma mia si è in fuori gioco mamma mia speravo che rientrasse no non è rientrato ovviamente chiama secondo giocatore chiama terzo mamma mia che brutto tiro Lazio in attacco Lazio in attacco oh Tiagi Tiagi diventa non così Tiagi non così non così non così non così Tiagi è un po' in confusione ultimamente non so cosa gli stia succedendo ma in confusione totale cioè sta facendo una fatica ad ambientarsi bravissimo che intervento no pulitissimo dai su pulitissimo era un intervento oro alla paletta lì che a me piacciono tanto dai il calcio vero di una volta calcio maschio mamma mia che parata che parata cross lungo dai quello buggato basta stoppare bene la palla le gol sì però che lentezza mamma mia l'ha stoppata eh però la lentezza che che manco io ormai a calcetto mamma mia vabbè comunque andò così no no intervento maschio no no eh no eh dai è su no il paletto però no cioè vabbè è tutto io sono d'accordo che bisogna far gol davanti alla porta però non così grazie ed è un po' che non danno calci di rigore comunque un bel po' devo dire che questo episodio zero calci di rigore bravo bravo atto dai ripartiamo lingre comunque lingre è il unico che corre ragazzi eh nel minuto di agi corre cancellieri non riesce neanche a fare una finta è imbarazzante sto ragazzo è imbarazzante è imbarazzante rigore l'ho chiamato l'ho chiamato ragazzi l'ho chiamato eh no no tira ti agi non segna dal 15-18 eccolo è il suo momento dopo le critiche ricevute ti agi il cucchiaio delizioso il cucchiaio delizioso di Aksuna ti agi quanto è forte quanto è forte quando vuole è forte dai raga eccolo qui il segnale di chiusura del match successo della squadra di casa abbiamo vinto che la fatica colossale però però va bene così però va bene così contro un Parma che ci ha dato un po' fido da torcere molto fido da torcere Sarri contentissimo anche se non sembra Sarri assolutamente no sembra un altro un altro allenatore siamo sesti sesti però allora davanti abbiamo l'unica che è scappata la Juventus che è tipo a più 12 e vabbè quello è imprendibile però il resto è tutto lì la Champions è ancora lì la Champions è ancora lì io non demorderei non demorderei allora simuliamo per il prossimo episodio 93 velocità scatto non so dove devo ancora capire dove forse per andare al bagno quando ha la diarrea molto probabile attività grazie pronto l'investimento facciamo un po' di così abbiamo 7 euro sul conto e con 7 euro sul conto direi che ci becchiamo al prossimo episodio se non andiamo ad abitare in mezzo alla strada non lo so alla prossima ciao ciao